ciao luciana come va stamattina come sono cresciuti i bambini e cucciolotti questa è una cucciolata con due madri nella stessa cuccia ci sono due madri che allattano una cosa un po rara ecco stanno venendo in salute perché si danno il cambio volte allattano insieme una cosa un po particolare che volevo chiamare questi gattini me l'hanno chiesto delle persone di chiamarli con i nomi anche se poi verranno dati quindi poi chi sceglie dai gattini può fare un altro tipo di ragionamento allora questo lo chiamiamo una femminuccia che non che ti chiedi ciao che ti bimba che ti e papà ecco la tragate che sta andando tranquillamente io con i gatti posso fare quello che voglio non mi fanno niente un buraro trovare gatte così pacifiche poi magari questo nero che maschietto lo chiamiamo rino così mi hanno detto vino 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 e qua guarda qua vino vino e poi l'altro vedete questo macchiato adesso non voglio importo una ragata di stalla tanto penso che sia un'altra femminuccia ma chiamiamo bertha quindi volevo indicare questi tre nomi bertha rino che ti beh io non vi importuno più è vero che mi lasciano fare tutto però insomma la discrezione sempre giusta ecco ci sentiamo nella prossima occasione saluti natale acri da michele expert